buongiorno amiche buongiorno amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale attiva la campanella perché pubblico un video al giorno così sarà sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti oggi voglio farvi parlarvi di un confronto tra due moto con la stessa cilindrata si tratta della onda cb 1000 r del 2022 versus insomma con confrontate così bonariamente con suzuki katana del 2022 quindi cominciamo a parlare a vedere eccola qui la la onda che si presenta con questa moto anche aggressiva imponente comunque sostanziosa eccola quindi l'onda cb 1000 r una cilindra parliamo del propulsore di 998 centimetri cubici il propulsore in quattro cilindri linea con la distribuzione quattro valvole per cilindro è una potenza massima di 145 cavalli a 10.500 giri al minuto la coppia massima di 104 newton metro 8.250 giri al minuto il telaio formato da monotrave superiore in acciaio scatolato con piastre laterali in alluminio all'anteriore come sospensione abbiamo una forcella della showa sff bp us dita 43 mm l'escursione di 120 mm mentre al posteriore abbiamo un mono ammortizzatore sempre della showa regolabile il freno anteriore poi vediamo qui nell'immagine è a due dischi da 310 mm con pinze d'attacco radiale 4 pistoncini mentre al posteriore abbiamo un disco singolo da 256 mm con la pinza a 2 pistoncini la strumentazione naturalmente di tipo digitale full lcd le luci sono a led cerchi in alluminio pressofuso con le razze sdoppiate la capacità del serbatoio carburante di 16,2 litri il peso con il pieno di 230 13 scusate kg quindi una moto che si presenta appunto imponente con il suo bel motore di notevole potenza senza ecco protezione aerodinamica quindi secondo me è una moto che esteticamente è molto forte quindi da un'idea proprio della sua potenza e della sua forza vediamo adesso invece di confrontarla appunto come dicevo con suzuki katana sempre del 2022 anzitutto la suzuki anche storia che onda una storia nel senso che il quattro cilindri si è evoluto a partire dalla prima onda cb 750 del 1969 suzuki è arrivata un po' dopo con questo modello storico quindi siamo nel 1980 quindi quando viene alla luce la prima suzuki katana che prende il nome dalla spada dei samurai giapponesi si presenta quindi con una linea si presentava con una linea innovativa che quando uscì stupi tutti proprio per la sua originalità quindi a distanza ormai di più di 40 anni suzuki vuole celebrare con questo questa moto il mitico modello con una moto che vedete riprende nella linea quello che è il cat e caratteristico cupolino naturalmente una moto moderna partiamo quindi dal motore che un quattro cilindri linea 999 sono i centimetri cubici raffreddato a liquido distribuzione e bialbero la potenza di 152 cavalli 11.000 giri al minuto la coppia massima di 106 newton metro a 9.250 giri al minuto in questo caso il telaio doppia travi in alluminio come il forcellone le sospensioni sono formate da una forcella steli rovesciati vediamo qui nell'immagine anche color oro della kayaba con diametro di 43 mm con completamente regolabile al posteriore il mono ammortizzatore regolabile nel precarico e nell'estensione la sella alta 830 mm da terra come impianto frenante abbiamo dei freni della brembo con pinze monoblocco attacco radiale dischi da 310 mm e al posteriore la pinza flottante con il disco singolo ovviamente da 250 mm le ruote lega leggera sono da 17 pollici serbatoio di 12 litri un peso in ordine di marcia di 214 kg con il prezzo che è di 14.190 euro di questa moto qui due moto sicuramente che non passano in osservate di carattere oserei dire che appunto a cui insomma di cui la lina può piacere o non piacere ma comunque sicuramente non passano in osservate bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto un dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella e qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi buonasera ciao a tutti